La vicenda dell'area celestiniana è lo specchio dell'amministrazione Ranalli. Così consigliere comunale Luigi Lacivita torna a puntare riflettori sull'affidamento in gestione dell'area celestiniana in località Badia di Sulmona, gravata da uso civico. È incredibile come a distanza di ben 100 giorni dal Consiglio Comunale del 20 maggio scorso, la Giunta Comunale continua a restare in un silenzio sospetto, tuone il consigliere. È possibile che la Giunta Comunale sia passata da un illegittimo tentativo di affidamento diretto dell'area a un lunghissimo silenzio e proprio nel momento in cui tutto l'iter da seguire veniva definito? Interessava loro una vera valorizzazione turistica e culturale dell'area o altro? Si chiede la Civita che vuole chiarimenti sulla nostra vicenda. Nonostante gli uffici della Regione Abruzzo abbiano confermato chiaramente l'illegittimità del percorso intrapreso dalla Giunta Ranalli, in quanto non conforme alla legge regionale numero 3 del 98 e nonostante sia stata inviata al Sindaco e al Segretario Comunale una dettagliata nota che scandisce modalità e tempi per il mutamento di destinazione dell'area con il successivo affidamento a soggetti terzi, nessun atto amministrativo è stato adottato e nessuna commissione consigliare è stata convocata, fa notare il Capogruppo di Forza Italia, che aggiunge E' incredibile come puntualmente di questi tempi la politica a Palazzo San Francesco pizzicata nella sua maldestra conduzione, ma anche di quell'umiltà che normalmente dovrebbe accompagnare una buona amministrazione, che prima dovrebbe essere capace di tornare sui propri passi riconoscendo gli errori commessi e dopo dovrebbe mettersi sulla strada giusta nell'interesse della collettività. La città è stanca di assistere soli teatrini che fanno male all'economia complessiva della città e del territorio. Aspettiamo ancora una volta fiduciosi ma con disappunto e fastidio e ricordiamo per l'ennesima volta al sindaco e all'amministrazione comunale di avviare le procedure da più parti indicate e invocate, chiosa il consigliere.